Campionati regionali Sono molto contento perché monto la mia cavalla da tanto tempo e siamo riusciti finalmente a raggiungere un obiettivo abbastanza consistente come la medaglia d'argento a questi campionati che saranno i miei ultimi campionati da junior quindi avevano anche un significato un po' speciale. Una gara forse la prima da galoppare un pochino di più? Sì, nella prima sono arrivato quinto, ho galoppato un po' però potevo sicuramente fare di più magari tagliando qualche girata però comunque sono contento perché avevo solo una penalità di differenza dalla prima quindi se lei avesse fatto un errore sarebbe potuta andare meglio però va benissimo così perché sono riuscito a fare tre percorsi netti nelle seconde due giornate quindi sono contento. Cabria, che cavalla è? Cabria è una cavalla italiana del 2007, è con me da quattro anni quindi da quando aveva cinque anni e sono molto contento perché aveva poco lavoro però ha sempre avuto voglia di saltare quindi è migliorata moltissimo grazie a me e al mio istruttore Julian Duran che ci ha fatto del suo lavoro. Perfetto, grazie mille e complimenti. Grazie mille a voi. Grazie mille a voi.